Mi chiamo Alberto Piantoni, scalo montagne, con due attrezzi, l'arte e il design, conterei di far arrivare Richard Gignore in cima alla montagna del mercato. Questa settimana del design credo rappresenti un punto di ripartenza, un punto di ripartenza per la nostra nazione e per il Made in Italy in particolare. L'esperienza con interni ci ha riempito di gioia e di preoccupazioni e alla fine la gioia ha prevalso ovviamente, siamo qui.